Ennesima bocciatura da parte dell'Eurocamera. Dopo i candidati di Romania e Ungheria, anche la francese Sylvie Goulart ha ricevuto il cartellino rosso del Parlamento europeo. La candidata di Macron non ha superato la seconda udienza giovedì e non è riuscita a convincere gli eurodeputati di essere la persona giusta per la carica di commissario europeo per il mercato interno della nuova Commissione europea. Non sono stata rinviata a giudizio e quindi chiedo semplicemente di prendere in considerazione i fatti e di decidere secondo la vostra coscienza, sapendo che oltre al principio dell'integrità dei politici, che è importante, c'è anche quello della presunzione di innocenza. Più che le sue capacità a far discutere alla sua integrità, attualmente è indagata dalle autorità francesi e dall'Ufficio europeo per la lotta antifrode per malversazione di fondi europei durante il suo periodo come eurodeputata. Inoltre è accusata di conflitto di interessi, poiché nello stesso periodo ha collaborato con un think tank americano. Per l'eurodeputato Thierry Mariani la sua bocciatura rappresenta un colpo duro per il presidente francese Emmanuel Macron. È la prima volta che un candidato francese viene rispinto ed è la prima volta che un candidato di un paese fondatore non passa l'audizione. Penso che sia davvero un affronto a Macron, significa che questa è una vittoria per il Parlamento, significa che d'ora in poi possiamo accettare solo persone irreprensibili. Quest'ulteriore bocciatura rischia di ritardare l'approvazione dell'intera commissione di Ursula von der Leyen che dovrebbe essere nominata il 24 ottobre durante la sessione plenaria del Parlamento europeo.